Si chiamava il nonno, comunque il maestro Gurreni, famosissimo. Qui sull'arrangiamento abbiamo voluto... è alcolico questo? No, no. Ma non è alcolico, vero? An alcolico, an alcolico. Dicevamo, qui l'arrangiamento l'abbiamo lasciato molto, molto soft, molto originale, perché il testo è veramente molto bello. E allora abbiamo voluto far sì che spiccasse il testo della canzone, meno l'arrangiamento e più il testo. Sì, come tu non trovari. Sì, come tu non trovare... 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 Comuna!